Qualche anno fa c'era stato comunicato, era stato comunicato all'Italia che ci sarebbe stata una svolta politica e culturale radicale con un nuovo governo. Dio, patria e famiglia. Questo è il programma. Ci ritroviamo oggi. Dio, patria, famiglia e beautiful. Da settimane e da mesi arrivano immagini di vicende personali, familiari, che sono francamente imbarazzanti. Imbarazzanti. In qualche caso io faccio fatica anche a vedere qualche video, qualche intervista. Davvero imbarazzante, penosa. Sinceramente faccio fatica anche a guardarle queste cose.